Attenzione, attenzione, Tango 2, qui è K1 in Oristano, Sardegna, che ti chiama, ti sento, cambio. Buonasera, Sardegna, buonasera, attenzione, Tango 2, operatore Stefano, Sardegna, che ti sento, cambio. Operatore, operatore, Tango 2, città di Venezia, qui operatore K1 in Oristano, Sardegna, ti ascolto, cambio. Ok, K1 in Oristano, buonasera, stazione, Tango 2, operatore Stefano, da Venezia, centro storico, ti ascolto bene, ma c'è molto, molto QRM, ci sono tante stazioni che vanno trasmettendo su questo canale, a te cambio per Tango 2, Stefano cambia per 2. Anche da parte mia, ti ascolto con un segnale di 5 e una radio di 2, abbastanza bene, appena QRM, ma va bene così. Rilancio a te, qui K1 in Oristano, cambio. K, ricevuto, Tango 9, il prossimo, cambio. Molto bene. Attenzione, attenzione, stazione, Tango 2, su Tango 9, cambio. Avanti, Tango 2, qui è K1 che ti risponde, ti ricevo un po' più QRM su questo canale. Comunque va bene, va bene. Molto bene, stazione, Tango 9, stazione, Tango 9, è piuttosto facilito, pertanto sicuramente meglio dell'altro canale. Affermativo anche da parte mia, momenti in cui ti ricevo benissimo, momenti un pochino così, comunque abbastanza comprensibile. Bellissima questa propagazione in questa settimana, cambio. Operatore Tango 2, se mi ricevi ancora, che apparato usi, interrogativo? Tango 2, Tango 2 da K1, se mi stai ancora ascoltando, che apparato stai usando, interrogativo, cambio. Ok, sono molto basso, mi ascolto molto basso, mi ascolto molto basso, la propagazione è calata, giunta in fondo. Dimmi un po' se tu mi ascolti, avanti che ha un po' più basso. Sì, ti ricevo anch'io un pochino più basso, ti chiedo che apparato stai usando. Io sto usando un Elbex 2240 canali AM, con antenna. Antenna, se mi ascolti, 20 euro, su barra mobile. È tutto che sei, barato mobile, dammi conferma, ci ho capito giusto, barato mobile, cambia da paura. KK roger, barra mobile, con un'antenna da 20 euro. Bene, bene direi, lo sento bene, funziona bene sia l'apparato che la stella, complimenti, è il fatto che sono acquisto. Sì, adesso c'ho anche un lineare attaccato da 50 watt. Vorrei provare a spegnerlo per vedere se riesco a contattarti comunque. Dammi la conferma della ricezione messaggio, cambio. Tango 2, qui è K1. Provo a spegnere il piccolo mostricciatolo da 50 watt. Provo a spegnerlo un attimino. Voglio vedere se mi ricevi. Dammi conferma di questo messaggio, cambio. Ma guarda che faccio già fatica così, già così con 50 faccio fatica. Se poi anche in 50 non ti sento più. Ecco, io ho tirato sulla potenza a 40 watt. Ok, Tango, ascolta, ti sto perdendo.